Ti presento Diego, senti perché non gli fai una domanda? No, giochiamo al calcio noi, non siamo giornalisti. Le domande facciamo dopo. Senti, domande dopo, ma un terreno così pesante, chi è favorito e chi è sfavorito secondo te? Visto le caratteristiche tecniche, due grandi campioni. Ma io credo nessuno è favorito perché il Napoli è una squadra forte. Sarà una partita difficile per tutti e due. Eh, penso lo stesso, perché forse favorito c'è lui. C'è lui per la forza che ha. Senti Diego, una domanda a Rubenica. Se l'avessi incontrato fuori dallo stadio, cosa gli avresti chiesto? Che non giove. Allora, allora.